Un regalo che Mahmood probabilmente non si sarebbe mai aspettato di ricevere al tempo stesso una mossa di marketing strategica. Dalla partecipazione a Sanremo con Tutagold, il cantante sta conquistando un successo dopo l'altro, il brano ha ottenuto il doppio disco di platino per gli ascolti, ma una frase della cantante. Dalla partecipazione a Sanremo, i gileni ripieni di zucchero, questo è un verso del ritornello, ma in molti, vista la velocità con cui Mahmood pronuncia le parole, hanno capito gileni ripieni. Da giorni si ironizza su questo equivoco tanto che qualcuno aveva realizzato un fotomontaggio in cui i biscotti cantati da Mahmood erano diventati dei dolciumi della Mulino. In un post su Instagram Alessandro Mahmood ha condiviso il regalo che Mulino Bianco gli ha fatto, una confezione gigante di cileni ripieni, un gesto che ha stupito e divertito il cantante. I biscotti, lo sottolineiamo, non esistono era solo un post condiviso da Mahmood Chiocciola Mahmood, Mulino Bianco ha inviato una mega confezione di cileni ripieni di zucchero a Mahmood Faccina Disperata pic.twitter.com Un post condiviso da Mahmood che